Sfruttamento 2.0, così il segretario provinciale della filea CGL Emanuele Verrocchi definisce l'indagine social dumping, pulizia sociale, che ha portato all'arresto di 6 persone per sfruttamento di operai nei cantieri della ricostruzione dell'Aquila, smantellando un'organizzazione criminale dedita al traffico di lavoratori provenienti dall'est Europa. Si tratta di reati commessi con modalità tutte nuove nel mondo dell'edilizia, una serie indeterminata di reati fiscali, dall'autoriciclaggio all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In particolare l'organizzazione criminale faceva ricorso al contratto di distaccamento in violazione di legge per giustificare la presenza della manovalanza straniera, vessata, minacciata e costretta a lavorare in condizioni sovrumane. Qui ci troviamo allo schiavismo 2.0, uno schiavismo di carattere europeo e transnazionale. Noi sappiamo che l'Europa si regge su quattro principi basilari, la libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. In questo caso, infatti, in questa fattispecie, negli arresti che ci sono stati un paio di giorni fa, i lavoratori sono tutto tranne le persone.